La violenza contro le donne. C'è chi dice che è un problema di ordine pubblico e allora più prevenzione, più sicurezza, con danne più severe. C'è chi dice che è un problema di formazione e allora ore di scuola sulla violenza di genere con un particolare accento sul valore del consenso. C'è chi dice che è un problema delle famiglie e allora maggiore attenzione e cura da parte dei genitori, nell'educazione dei figli, in particolare dei maschi. C'è chi dice che è un problema di potere e allora donne e uomini abbiano a parità di prestazione lo stesso stipendio, non ci siano più dibattiti pubblici con solo uomini in cattedra e le posizioni di vertice nelle strutture sociali, dalla chiesa alla società, dalle aziende alla politica, non siano più riservate di fatto agli uomini. Ma una questione strutturale come la violenza contro le donne non può essere affrontata se non in maniera sistemica, facendo in modo che tutti e tutte facciano la propria parte, non delegare ma agire in prima persona. E cosa posso fare allora io in prima persona? Nella lettera ai romani troviamo scritto il bene che voglio non lo faccio ma il male che non voglio quello faccio. Si potrebbe scrivere un trattato su queste parole ma qui mi limito a dire non pensiamo che il potenziale mostro sia sempre qualcun altro. Potrei esserlo io, io che voglio essere una brava persona, proprio io che non voglio essere un violento, potrei fare qualche cosa che non vorrei fare, il male che non voglio quello faccio. La consapevolezza che posso fare del male può contribuire a fare in modo che quel male non si compia. La lotta contro la violenza di genere parte da me e parte da te.